Promuovere un gioco legale in senso stretto, è chiaro che noi operiamo come regolatore del mercato e cerchiamo di combattere il gioco legale, cerchiamo con i nostri mezzi con l'aiuto delle forze di polizia, con il guardia di finanza, con il corpo del trattato di Carabinieri, la polizia di Stato, però ovviamente l'opera è collegata, è evidente, però quello che voglio dire innanzitutto è che secondo noi la prospettiva è la tutela della rete, della rete fisica che come presidio di tutela di un gioco legale è fondamentale, perché abbiamo visto che appunto dove non c'è la rete fisica, dove la rete fisica è stata in qualche maniera espulsa, i delettori di questa espulsa immediatamente è nato, è rinato l'offerta dei legali di un gioco legale, quindi questo è un dato fondamentale, è un dato incontrovertibile, quindi è necessario il passaggio di una nuova conferenza unificata che è previsto di fatto nell'articolo 15 dell'articolo 111, quindi si dà la legge di delega fiscale, perché solo attraverso regole certe che ci si deve mandare sul territorio attraverso appunto una nuova conferenza unificata che poi sia effettiva, non come il risultato della vecchia che è stata in realtà, la conferenza unificata del 2017 è stato un risultato che è rimasto sulla carta e non ha avuto nessuna effettività e riteniamo che sia necessario, perché sia necessario che vada affrontata subito, vada affrontata al pari del disegno di legge della parte, dello schema di legge legislativo delegato su online, perché come tutti sapete le cose stanno, le due materie stanno marciando su binari differenti purtroppo. Noi come commissione, come unità di esperti, nominato dal viceministro Leo e come agenzia abbiamo presentato proposte a 360 gradi su tutti gli aspetti, sull'aspetto della formazione, sull'aspetto della tutela dei giocatori sul territorio, sull'aspetto del dimensionamento delle reti, però evidentemente la scelta politica per adesso sembrerebbe andare su un doppio binario, cioè prima sul binario dell'online e tutta la parte del discorso del gioco online, perché forse è considerato di più semplice attualità e poi affrontare il discorso del gioco fisico. Secondo noi il discorso dovrebbero essere due temi, dovrebbero essere affrontati insieme, quantomeno partire insieme, poi è chiaro che per la regolamentazione del gioco fisico forse ci vorrà più tempo perché c'è necessario tutto il passaggio della conferenza unificata. Quanto riguarda i temi della conferenza unificata, che distanziometro o gli orali si siano rivelati una misura inefficace, è tutto evidente, è evidente. Tra l'altro che sia una misura accortessa e inefficace è una misura incomoda, perché a di là del fatto che non siamo un stato federalista. In realtà è assurdo dire che, per esempio, sappiamo tutti che i suoi luoghi sensibili sono più svariati, no? Cioè è assurdo che una regione consideri come luogo sensibile a cui mette la distanza i monti, no? A scoprire ancora ancora il cimitero piuttosto che la caserma, insomma. Quindi bisognerebbe capire perché non è che quello che fa male in una regione non fa male nell'altra. Quindi bisognerebbe dare regole, cioè bisogna dare, regole certe a livello nazionale, ma a livello non a legato regionale. Anche per quel che concetto, ovviamente, gli orari. Questo poi non risolve il problema, come diceva, laddove non c'è la possibilità di usufruire di gioco legale, molto spesso il giocatore si rivolge di legale. Ma non solo perché manca, ma anche legale ad ignoranza per altri tipi di motivazioni e per lo scandalo, lo scandalo, insomma, lo scandalo adesso delle scommesse su siti legali dei giocatori è tutta evidenza. Quindi è facile attingere da parte del soggetto legale una buona fetta dei giocatori e quindi per quello dobbiamo cercare di intervenire. Dicevo, la rete fisica. La rete fisica è importante perché, oltre ad essere un presidio di legalità, attraverso la formazione che è un atto di capisaldi, secondo me, della legge di lega fiscale, consente un primo approccio, un primo baluardo da parte degli stessi operatori della stessa filiera, quindi dei concessionali, degli esercenti e dei soggetti in carica nella raccolta, un primo presidio contro il disturbo di gioco d'azzardo e contro l'automatia. perché, così come una formazione corretta, potrebbe, 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 sicuramente potrà, senza nemmeno, potrà sicuramente bloccare alcuni comportamenti, comportamenti inizialmente patologici che venissero verificati. Tanti, appunto, abbiamo detto, abbiamo detto che qualche regione ha già cominciato, qualche concessionario ha già cominciato a formare la sua rete, qualcuno sta studiando di adottare dei sistemi ancora predittivi sulla possibilità, sulla, diciamo, debolezza del soggetto, del soggetto a diventare, quindi della possibilità che il soggetto diventi, diventi un giocatore, un giocatore problematico. Però, secondo me, anche qui, non può essere lasciato, come si diceva già, non può essere lasciato al singolo, al singolo concessionario, una singola regione, anche perché poi avremo, così come per l'altro argomento, avremo delle, 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 delle regolamentazioni differenziate ma anche, guarda, la delega, la delega fiscale deve dire che sia lo Stato che decida il perimetro, quanto meno il perimetro dell'intervento sulla formazione e le modalità della formazione. Quindi, personalmente, credo che quel principio della delega vada immediatamente adottato.